La parola al professor Roberto Balzani, Università di Bologna, Presidente del Sistema Museale di Ateneo. Ieri pomeriggio c'è stato un interessante convegno proprio sulla tematica dei musei universitari, a partire dai musei universitari di Bologna. Posso definirlo un amico dell'AMLI, quando è stato sindaco di Forlì, perché somma quindi questa esperienza amministrativa al ruolo accademico, ha organizzato appunto a Forlì un convegno nostro, ovviamente assieme al Comune, dedicato ai musei della Romagna, ai problemi, alle criticità. E quindi perfettamente in grado di anche darci, come credo che farà, un po' l'indicazione di quali sono i nodi critici da superare, se vogliamo andare davvero verso un sistema museale nazionale che crei valore, che funzioni, come ha detto chiaramente Martina Bagnoli. Grazie Roberto. Buongiorno a tutti, grazie e devo dire che io mi trovo assolutamente in linea con quello che Martina Bagnoli ha appena detto e una parte di queste considerazioni riprendono da lì. La prima riflessione che è ineliminabile quando si parla degli aspetti economici legato al patrimonio è una parola magica che si chiama moltiplicatore, cioè quanto una cifra investita diventa altro. Ma noi sappiamo che la parola moltiplicatore significa anche una cosa molto concreta per le amministrazioni pubbliche, cioè che questi soldi devono essere immessi in un motore ma non tornano indietro. La moltiplicazione arriva a valle e non torna indietro a chi ha investito e questo sappiamo che è uno dei grandi problemi classici della economia del patrimonio, che rappresenta quantitativamente una percentuale rilevante dell'attività del nostro Paese, ma nello stesso tempo non ha quella filiera di costruzione del valore e del profitto, diciamolo in termini classici, che rappresenta il punto di forza di tutte le ossature delle filiere economiche tradizionali. E quindi siamo di fronte a questa aporia che ci consente, che ci mette sempre di fronte alla ricchezza da un lato e alla povertà dall'altro, cioè la povertà dell'investimento iniziale che deve essere fatto se non a fondo perduto quasi e dall'altra parte a una valutazione di quello che è il rendimento di questo investimento su una scala più vasta. Scala più vasta, però, che non dobbiamo dimenticare, non può andare a discapito dei finanziatori originari. Questo è il punto. Ecco perché io adesso condivido questa prospettiva perché è esattamente da qui che vorrei partire. Allora, prima di tutto vorrei dire una cosa, cioè che penso che ci sia un problema per quello che riguarda i musei locali e più in generale i musei comunali, che è un problema legato alla fiscalità degli enti locali. Funzioni e fiscalità. Finché il tema della cultura è residuale e resta residuale fra le funzioni degli enti locali su base costituzionale e viene, diciamo, individuata come una sorta di appendice del patrimonio, inteso in patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente, è chiaro che noi abbiamo un sottofinanziamento cronico, a parte alcuni casi eccezionali che sono quelli delle città d'arte. Ma per il resto, problemi, che sono proprio problemi legati alla struttura di quali sono le funzioni finanziate in maniera privilegiata dall'ente. E' chiaro quindi che finché la tassazione ha una struttura di questo tipo, noi abbiamo e avremo problemi. Io credo che per andare in direzione di questa visione ecologica, che non è soltanto del patrimonio, ma più in generale, credo che una riforma della fiscalità in Italia per la fiscalità locale si ponga, individuando quelli che sono i beni comuni della comunità. e il modo con cui essi debbano essere sostenuti. Cioè un ragionamento un po' inverso. Bene comune è il patrimonio, punto indicativo, punto interrogativo. Bene comune è il patrimonio edilizio pubblico e privato per la tenuta sismica, il restauro, eccetera. Altro punto interrogativo. E' chiaro che si può costruire anche una forma di fiscalità alternativa, di tipo premiale, in questo Paese. Non se ne è mai parlato. Credo che però, se noi vogliamo superare il tema dell'impecuniosità, non possiamo pensare che ci possono arrivare le fondazioni, i privati cittadini. E' chiaro che il tema della fiscalità, che regge un investimento a sostegno del patrimonio, deve essere preso in considerazione. Se no, non ci riusciamo. Saranno sempre operazioni spot, diciamo così. E questa è la prima considerazione. Quindi vado, io mi augurerei naturalmente, perché sono un partigiano dei beni comuni e credo che il patrimonio sia il principale, forse, fra questi beni comuni, di riuscire a fare un'operazione in piccolo, che è quella, per esempio, che si fa per la sanità, che è un grandissimo bene comune. Noi sappiamo che la sanità è finanziata da un'imposta esatta su scala regionale che si chiama IRAP, che in gran misura, in larga misura, non in misura totale, va a finanziare il settore. Quindi non è la prima volta che si fa in Italia, e si può fare anche su altro, naturalmente facendo delle scelte. Questo è evidente. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione riguarda il fatto che noi ci troviamo di fronte a una difficoltà di tipo legislativo per quello che riguarda l'amministrazione locale. Dopo, diciamo, la riforma del Rio, che è una riforma intermedia, che doveva essere compiuta dal referendum del 4 dicembre, abbiamo anche un'indecisione su quella che è la scala amministrativa. Perché le province sono in uno stallo, esistono ancora, ma sono definanziate, sottofinanziate, e quindi evidentemente non hanno nessuna possibilità di reggere interventi di tipo culturale, fanno già fatica a reggere le strade e i ponti, come sappiamo, fanno fatica a gestire gli edifici scolastici, e quindi quando sono finiti i soldi lì, non ce n'è per altro. Quindi abbiamo un problema di un vulnus che per i piccoli comuni, non per i grandi comuni, per i piccoli comuni è un vulnus devastante. L'altro elemento è naturalmente la geografia istituzionale del Paese. Perché è chiaro che uno dei tentativi fatti dai vari governi che si sono succeduti dal 2010 in poi, a partire da quello Monti, ma poi anche tutti gli altri, è stata quella di ridefinire la struttura di un ente locale intermedio che vede oggi tuttora più di 8.000 comuni, 120 province, eccetera, eccetera. I tentativi di accorpamento e di rilettura di questo territorio, aggregandolo in comuni più grandi, aree vaste, è tuttora aperta. E sappiamo che ha causato una serie di polemiche a livello politico, di opposizioni rilevanti, che hanno impedito che fino ad oggi se ne parlasse. Ma sappiamo che questo è una grande questione, soprattutto, ripeto, per i piccoli centri, per i medi centri, non per le città principali, ovviamente, che possono sopravvivere, ma gli altri no. sopravvivere, non brillantemente, diciamo così, però sopravvivere. Ma per gli altri è una questione di vito di morte. Per cui, questa partita, la partita della scala locale di organizzazione, di riorganizzazione degli enti intermedi, è assolutamente decisiva, perché poi sappiamo che da questo punto di vista le regioni possono fare relativamente poco, possono dare degli incentivi con delle leggi ad hoc, come fa anche la nostra regione Emilia-Romagna, ma poi il vero peso di investimento per salvaguardare il patrimonio locale è dei comuni. È dei comuni, al di là dello Stato, naturalmente, per i suoi centri, ma alla fine il peso anche finanziario è dei comuni. Allora, da questo punto di vista, a me è venuta, diciamo, siccome questo tema era un tema che è stato dibattuto in area su una scala romagnola, noi avevamo, abbiamo tre province e avevamo, come romagnoli, l'idea di riuscire a fonderle in un'unica sola per fare un'area vasta di 5 milioni di abitanti che avrebbe dovuto, nella nostra idea, dico nostra, perché erano molti amministratori che la pensavano così, allora, diciamo, stiamo parlando di qualche annetto fa, quella di riuscire a dare a questa area vasta anche delle competenze che potessero essere, in qualche modo, diciamo, traslate da un livello comunale troppo basso perché non era in grado di gestirlo, fra le quali quelle delle reti culturali, reti bibliotecarie, per esempio. Questa operazione, diciamo, non è andata in porto perché il tema della riforma si è poi arenato, però io credo che sia ancora un tema valido, un tema ineludibile, perché tanto arriviamo sempre lì e, ripeto, per riuscire ad avere una scala di gestione ci vuole un livello amministrativo, è necessario il livello amministrativo, non possiamo pensare che questi musei, queste realtà dipendano dal niente, non possono essere delle monadi, hanno bisogno di un'amministrazione, quindi bisogna trovare la scala amministrativa all'interno delle quali possono inserirsi. E a me era venuta un'idea che era stata condivisa poi anche da funzionari e amici del patrimonio, che era quella di fare nascere questa collaborazione fra le città e i comuni, sempre molto difficili, perché sappiamo che poi, diciamo, c'è sempre poi anche una rigidità di tipo proprietario e identitario, che si lega al patrimonio, che è difficile scalzare, per cui ci sono degli elementi fiduciari che vanno costruiti col tempo e non sono automatici, non possono nascere da un'imposizione normativa, ma debbono essere fatti crescere dal basso attraverso la cittadinanza, ma anche la condivisione degli addetti ai lavori, che sanno che così potranno sopravvivere come professionisti, cosa che non è sicura se i comuni rimangono divisi come è attualmente, e l'idea era quella di far nascerle da una opera, opera pubblica, piccola opera pubblica comune, un'opera pubblica controcorrente rispetto alle normali opere pubbliche. Le opere pubbliche normalmente si fanno per dare visibilità. Questa era invece un'opera pubblica invisibile, fra virgolette, cioè la costituzione di un deposito dei beni su scala romagnola. Un deposito di studio, un deposito di restauro, un deposito di ricerca, cioè farne un motore del patrimonio, al quale poter affidare intanto i beni per poterli salvaguardare, prima tappa necessaria, e poi dopo da lì riuscire poi a prenderli, via via, per valorizzarli, quindi anche con dei costi, diciamo, di allestimento temporaneo molto inferiori anche per città, che viceversa non si potrebbero permettere la conservazione e la tutela del bene in maniera efficace. E nello stesso tempo, per rendere il deposito, quell'elemento centrale, anche di formazione, per gli studenti dell'Università di Bologna, tanto per dirne una, ma non necessariamente solo loro, ma anche per tutti gli studenti di rango universitario, eccetera, eccetera. Allora, anche questa idea, diciamo, che era stata salutata positivamente, per il momento si è arenata, però io credo che sia una di quelle strade che bisogna praticare. È una cosa di dimensioni fattibili in termini di investimento, non è una cosa impossibile. E credo che potrebbe essere una di quelle strade pratiche per dimostrare che, partendo dal basso, con una efficace riorganizzazione territoriale, una collaborazione che è necessaria con, fra il pubblico e il privato, l'associazionismo, questo è evidente, e ovviamente con lo Stato, si possa superare questo stallo dell'impecuniosità che oggi sappiamo è la grande spada di Damoc che incombe sulla sopravvivenza delle collezioni dei musei locali. Grazie. Grazie per l'ampiezza di visione, la capacità di indicare quali sono davvero i nodi da affrontare e anche la presentazione di eventuali possibili strade di soluzione.